E' importante ascoltare, dopo il discorso molto interessante dottor Giacomini, anche la voce degli studenti e a questo scopo, ovviamente senza poter dare voce a tutti gli studenti, abbiamo scelto uno, abbiamo scelto Marco Parussolo, studente di Economia e degli Scambi Internazionali, che invito qui sul palco. Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto ringraziare il magnifico rettore, professor Carraro, per avermi dato la parola qui sul palco, in questa giornata così significativa, per tutti noi studenti, per voi laureandi, barra laureati, e per tutti i gentili ospiti, l'illustre commissione. I ringraziamenti comunque sono dovuti anche alla professoressa Abiglio e al professor Mantovani, che purtroppo oggi non è presente, per avermi coinvolto in questo importante evento per il campus trevigiano di Ca' Foscari. Ora mi rivolgo a voi, carissime laureate e carissimi laureati, gentili ospiti e commissione. È con un turbinio di sentimenti e sensazioni che oggi ho l'onore di partecipare con voi a questo importantissimo e bellissimo giorno. Infatti non c'è un'emozione unica che possa sintetizzare tutto quello che il giorno della laurea significhi per noi studenti. Innanzitutto nutro un sentimento di nostalgia, oserei dire, se ripenso infatti alla mia laurea di commercio estero di ben due anni fa, in un'altra location ma comunque sempre molto d'effetto. Temperature quasi saariane, era in piena estate, ma comunque permeata da un tale calore da parte di tutti gli ospiti anche di quel giorno, e da una così sentita partecipazione, che sono sicuro rimarrà ben impressa nella mia mente tra i ricordi universitari. Quindi mi permetto di darvi un consiglio a voi studenti fin da subito. Vivete a pieno questo giorno perché è il giorno in cui tutti i vostri sforzi, le vostre fatiche, ma anche le vostre soddisfazioni e i vostri traguardi raggiunti saranno ben riconosciuti e premiati da chi vi ha seguito in questo percorso, dai professori, da coloro che vi vogliono bene, dalla vostra famiglia e dai vostri amici che vi hanno sempre sostenuto. Uscite oggi fieri di voi stessi, uscite a testa alta, perché oggi celebriamo voi, il vostro essere studente Ca' Foscarino, la vostra conquista di questo titolo così prestigioso. Non sto qui a ricordarvi infatti non solo il prestigio del titolo accademico che oggi voi andrete a ricevere, ma anche il prestigio dell'università presso cui lo avete conseguito e che il nostro magnifico rettore vi ha già anticipato. Non riesco però a celare un certo sentimento di invidia nei vostri confronti. Innanzitutto un po' anche per la sede di questa così bella giornata, certo anche l'auditorium di San Leonardo è carino, ma diciamo non è al confronto con questo bellissimo teatro che l'onorevole De Poli ci ha messo a disposizione. L'invidia comunque è notoriamente un sentimento negativo, si suol dire, qui però lo voglio declinare in una visione più positiva, più ottimistica, più ben augurante. Infatti, come spesso ripetuta il professor Mantovani e la professoressa Biglio, un po' mi spiace essere nato nell'anno 88 e non solamente l'anno successivo. Vi chiederete perché di questo mio, chiamiamolo così, dispiacere. Essenzialmente perché coloro che hanno deciso di proseguire gli studi qui a Caffoscari, nelle lauree magistrali, a partire dall'anno scorso e ancora meglio a partire da quest'anno, si sono trovati di fronte ad un panorama universitario trevisano totalmente diverso dall'anno precedente, totalmente rinnovato, totalmente più attento all'esigenza del territorio. Come anticipato, infatti, non si potrebbe più parlare di sede trevisano di Caffoscari, ma proprio di un'istituzione ben strutturata, che va sotto il nome appunto di scuola in sviluppo economico e globale, comprendente sia facoltà economica sia linguistica. Cosa cambia? Vi chiederete. Le solite pratiche burocratiche che a noi studenti poco interessano, vi direte. Ebbene, questo cambiamento è molto ben più esteso di qualche cavillo legale, di qualche legge così, un po' data dall'alto del Ministero, ma è molto più significativo in termini di benefici per la ricerca e costruzione della vostra carriera lavorativa. E così mi rivolgo a voi, laureati, e vi esorto a non sottovalutare ciò che il panorama trevisano vi propone per il vostro futuro accademico, perché ciò che scegliete ora, ricordate, si rifletterà molto profondamente nella vostra vita lavorativa. Ve ne sarete già accorti in parte durante quella breve ma intensa esperienza di stagio all'estero come in Italia. E questo cambiamento, diciamo, si riflette in due direzioni, e quindi con altre tante direzioni di professionisti. Sia in ambito economico, dove troviamo una magistrale in sviluppo economico e dell'impresa significativamente cambiata rispetto alla vecchia, pur sempre mia, quasi obsoleta, direi, economia degli scambi internazionali. In questo nuovo percorso, infatti, si distinguono tre nuovi indirizzi, molto ben distinti ma con percorsi comunque comuni, e quindi portando a tre categorie di professionisti. Una, sullo sviluppo industriale internazionale, più attento alle dinamiche della globalizzazione e dei mercati internazionali. Ormai è una realtà che non si può più trascurare. Una, più incentrata invece, sull'imprenditorialità e lo sviluppo d'azienda, dove il focus è sull'internazionale, il management e l'innovazione. L'ultima, ma non ultima, è la finanza dello sviluppo e della piccola media impresa, dove ci si concentrerà sulla finanza della crescita, i rischi e la programmazione aziendale. Sia pure, e non dimentichiamo, in ambito linguistico, dove la classe di traduzione specialistica ed interpretariato forma studentesse e studenti, nelle lingue più importanti del mondo odierno. Cinese, la lingua delle ormai prossime economie avanzate, e l'inglese, di fatto, i lascia passare in ogni continente. Oggi, però, guardo a voi anche con un sentimento di speranza. Speranza che il pollo a Trevisano diventi sempre più autonomo e moderno. Al passo con i tempi, è dotato anche di tutti quei servizi per lo studente che ad oggi ancora mancano. Sono ancora assenti, infatti, uno spazio idoneo allo studio personale, uno spazio messo adeguato, una copertura di rete wireless, come si può ancora ignorare l'importanza di internet al giorno d'oggi. Una certa efficienza degli uffici amministrativi e tutte le pratiche riguardanti esami, corsi, eccetera. Forse, però, ancora a causa dell'eccessiva pesantezza dell'apparato burocratico di Ca' Foscari. Manca, insomma, una certa atmosfera che potrebbe rendere il campus di Treviso ben più vivibile e partecipato da noi studenti. Auspico, comunque, che queste speranze vengano colte come critiche costruttive, con le quali si potrebbe aumentare di molto la competitività e dunque far risaltare ancora di più la già citata qualità della didattica del campus trevisano. Da questo punto di vista mi permetto di essere anche ottimista, perché ora lo statuto della scuola di Treviso prevede la partecipazione in giunta di due studenti, rappresentanti ed eletti, appunto, di noi studenti e quindi spero che queste ed altre, diciamo, migliorie da portare al campus trevisano vengano portate anche presso gli organi decisionali. Termino, comunque, con un sentimento di gratitudine verso Ca' Foscari e verso il campus trevisano al quale sono particolarmente affezionato. Direte che mi contraddico, in realtà questa sede si contrappone un po' alla stereotipata immagine dell'Italia, dove, ben si sa, l'apparenza prevale sulla sostanza. Ecco, qui in Ca' Foscari e Treviso è appunto il contrario, prevale la sostanza sulla forma, la qualità degli insegnamenti e sull'apparenza. E per il nostro futuro, vi assicuro, è questo ciò che conta. Però, a lungo andare, curare anche questo aspetto potrebbe rilevarsi conveniente e utile per rilanciare il polo accademico trevisano. Tornando a noi, tengo a ringraziarvi personalmente per l'attenzione che mi avete riservato. Vi faccio le mie più vive congratulazioni per il traguardo che avete raggiunto e vi esorto a individuare subito da domani il prossimo e ultimo traguardo accademico, in modo che possiate distinguervi come leali e autentici leoni caffoscarini che hanno fatto di Treviso la loro foresta. Grazie. Accolgo subito suggerimento, non soltanto porteremo immediatamente la lettera wireless a Treviso, ma metteremo a disposizione, a partire tra poco tra l'altro, una biblioteca digitale, in modo che tutto quello che abbiamo sotto forma digitale nelle biblioteche di tutto l'Ateneo sia disponibile in ogni sede, a maggior ragione anche a Treviso. Quindi non servirà l'accesso fisico alla biblioteca, ma sarà sufficiente avere un laptop collegato ad internet per poter avere riviste e libri a disposizione. C'è un passaggio ancora importante, ho menzionato la Fondazione Iglesias come uno dei nostri partner che ha realizzato una prima serie di iniziative, in particolare delle borse di studio, delle borse di studio a sette studenti, borse di studio abbastanza rilevanti, 5.000 euro, che permettono quindi di coprire i costi degli studi, forse qualcos'altro. Il fondatore di questa Fondazione Iglesias è il dottor Ernesto Serraglia, che invito qui sul palco, non solo per parlarci in un secondo, ma anche poi per consegnare i premi agli studenti.